Credo che sia la prima volta che organizziamo un incontro specificamente dedicato all'incontro e all'ascolto dei professionisti di Fabriano. Un segno importante di vicinanza anche a un territorio che al momento ha grossi problemi dal punto di vista economico e di crisi naturalmente. Un territorio che ha problemi di crisi ma è un territorio che è stato sottoposto a problemi di catresismico e anche di senso idrologico in questi anni. La nostra ricostruzione è stata sicuramente una ricostruzione modello. In tempi brevi le persone sono ritornate nelle proprie abitazioni e gli edifici sono sicuramente stati resi più sicuri. Le risorse sono state impegnate veramente per la sicurezza degli edifici e quindi possiamo dire di avere una buona sicurezza nei confronti di eventuali futuri eventi dei quali sicuramente non possiamo negare la possibilità che si ripetano. Perfetto, ok.